Ci troviamo all'Arnese Civico di Palermo, reparto di ginecologia ostetrice, per parlare con il dirigente di questo reparto, il dottore Antonio Majorana, relativamente a quella che è la chirurgia endoscopica applicata nella ginecologia e per parlare di quella che è una delle patologie che colpisce maggiormente le donne, ovvero le endometriosi. Siamo con il dottore Antonio Majorana, dirigente medico di primo livello nel reparto di ginecologia ostetrice dell'Arnese Civico di Palermo. Intanto una prima domanda che vorrei farla è relativa al suo nuovo mandato come segretario nazionale della SEGI. Ci spieghi cos'è SEGI e qual è la mission di questo suo incarico? Grazie. SEGI è la società italiana di endoscopia ginecologica ed è la società che si occupa di raccogliere tutti i medici ginecologi che in Italia si occupano di endoscopia, quindi di laparoscopia e di isteroscopia. È una società antichissima che è nata proprio qui in Sicilia, si occupa della parte più importante della ginecologia che è quella minimamente invasiva, della chirurgia ginecologica è quella minimamente invasiva. La mission è una mission davvero importante che è quella di rendere più ampia possibile il ricorso alle tecniche chirurgiche e ginecologiche in senso minimamente invasivo. La chirurgia minima invasiva o endoscopica per quali patologie viene prevalentemente applicata? Oggi si fa un ricorso davvero ampio alla chirurgia ginecologica minimamente invasiva. Si può sicuramente affermare che quasi tutti gli interventi chirurgici ginecologici possono essere affrontati con tecniche minimamente invasive, sia laparoscopiche che isteroscopiche. Ovviamente bisogna fare un distinguo e quindi cercare di fare l'intervento giusto nella paziente giusta. Vorrei fare una precisazione. Chirurgia minimamente invasiva non è soltanto la chirurgia che si fa attraverso un minimo accesso. La chirurgia minimamente invasiva è una chirurgia che si fa cercando di calibrare l'intervento più adeguato nella paziente con la diagnosi più adeguata. Quindi è una chirurgia di altissimo profilo che deriva da una diagnosi ben posta e che poi viene fatta col gesto chirurgico meno invasivo ovviamente attraverso vie d'accesso che oggi sono sempre meno invasive per la fisicità della nostra paziente e quindi mi riferisco alla laparoscopia, alla mini laparoscopia, alla chirurgia robotica, all'isteroscopia ma anche alla chirurgia vaginale che è considerata oggi con pieno diritto una chirurgia minimamente invasiva. Questo tipo di chirurgia può essere utilizzata sia ai fini diagnostici che terapeutici o uno esclude l'altro? Questa è un'ottima domanda e la ringrazio per questo. La laparoscopia è nata in Italia come tecnica diagnostica. Oggi è diventata una tecnica operativa e si può utilizzare ovviamente per entrambe le opzioni. Sempre meno utilizziamo la laparoscopia come tecnica diagnostica e la utilizziamo sempre più a fini operativi. L'isteroscopia invece rimane in gran parte una tecnica diagnostica e poi anch'essa è diventata una tecnica operativa per tutta quella che è la patologia all'interno della cavità uterina. Direi quindi in sintesi che le tecniche endoscopiche possono essere utilizzate sia a fini diagnostici che a fini terapeutici. Lei è riferimento regionale per quanto riguarda l'endometriosi. Tra l'altro nel reparto che lei dirige c'è un centro di riferimento. Questo tipo di patologia può essere trattata con questo tipo di chirurgia? Sì, in questo reparto ci occupiamo della diagnosi e cura della malattia endometriosica da tantissimo tempo. Già nel 2003 abbiamo inaugurato un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura dell'endometriosi. Questo ambulatorio che è diventato un vero e proprio centro multidisciplinare offre alle nostre pazienti addirittura una consulenza che vede la presenza del ginecologo, della psicologa, ma anche di tutte le figure che necessitano in ambito multidisciplinare di questa patologia che in alcune donne può essere anche molto complessa e coinvolgere organi che sono vicini all'apparato genitale come l'intestino o le vie urinarie. È una malattia della quale ci occupiamo da tanto tempo, della quale ci continuiamo ad occupare sia dal punto di vista diagnostico che è terapeutico. Per venire alla sua domanda, la tecnica principe per curare chirurgicamente la malattia endometriosica è la laparoscopia. Per via laparoscopica le nostre pazienti che necessitano di intervento chirurgico vengono trattate sia per tutta quella che è la patologia ginecologica, ma anche quando la malattia invade organi come le vie urinarie o l'apparato intestinale. Tutto questo viene affrontato per via laparoscopica. Per concludere, in ogni caso, in ogni situazione la chirurgia endoscopica può sostituire quella tradizionale? È opportuno che ogni paziente venga trattata con l'intervento più adeguato per il tipo di patologia che ha, che l'intervento venga fatto sempre nella maniera meno invasiva possibile. Diciamo che oggi la stragrande maggioranza di interventi sia per patologia benigna che per patologia maligna possono essere effettuati con tecnica laparoscopica e noi in nostro reparto riusciamo a garantire tutte le opzioni possibili da questo punto di vista. Quindi riusciamo a offrire a tutte le donne che ne fanno richiesta un trattamento laparoscopico. Questo non significa che tutti gli interventi debbano necessariamente essere fatti per via endoscopica. Diciamo che bisogna personalizzare per ogni paziente l'intervento giusto a secondo della patologia che ha. E quindi in ogni unità operativa deve esserci il bagaglio completo di tecniche chirurgiche per poter offrire a ogni singola paziente l'intervento più adeguato. Questa è tailored therapy, cioè terapia tagliata su ogni paziente. E la minima invasività è anche questa, cercare di calibrare l'intervento giusto sulla giusta paziente. Poi meno invasivo è l'intervento chirurgico meglio è. Ma mi consenta in chiusura una battuta. L'intervento meno invasivo è l'intervento che si riesce a non fare. E oggi stiamo cercando di mettere a punto una serie di terapie mediche che cercano di far ricorrere al minimo all'intervento chirurgico, in maniera tale da arrivare in sala operatoria col minor numero di pazienti possibile. Su di questo l'intervento meno invasivo che sia possibile.